Cari naviganti, bentornati, 51esima puntata delle colonne d'Ercole. Allora oggi vi racconto la storia di un film di cui probabilmente non avete mai neanche sentito parlare, ma è un film la cui genesi è stata talmente bizzarra, assurda per tanti versi, la produzione, il suo sviluppo e la colonna sonora, che assolutamente la storia meritava di essere raccontata. Oggi parliamo del Lucifer Rising. Allora ci sono almeno tre aspetti di cui vale la pena parlare riguardo a questo film e sono il regista, la tipologia stessa di film e la colonna sonora. Allora partiamo dal regista, Kenneth Anger, che è un nome d'arte di Kenneth Engelmeyer, il regista del 1927, ancora vivo, quindi molto anziano ma ancora vivo, che è decisamente una figura strana e unica nel panorama della filmografia di Hollywood. Già intanto tenete presente che ha scelto come suo cognome d'arte Anger, cioè rabbia, e già questo forse vi fa capire un po' il soggetto. E quindi è un regista che negli anni 60 e 70 ha anche un certo peso nella scena, soprattutto underground e sperimentale del film americano. Vive comunque diversi anni in Francia, visita anche l'Italia, insomma ha una vita abbastanza dissoluta e abbastanza curiosa, costellata tra l'altro di aneddoti, nessuno dei quali verificati, in genere abbastanza autoreferenziali, in cui lui racconta di aver fatto cose mirabolanti, di cui però spesso non c'è tracce, quindi insomma non sappiamo esattamente che peso dare alle sue parole. Quello che sappiamo è che lui è fortemente attratto da Hileser Crowley. Se non sapete chi era Crowley andatevelo a cercare su Google, ma diciamo in sostanza comunque che era un occultista, vissuta tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, insomma che poi aveva fondato anche una sua religione, e quindi aveva attirato tutta una serie di artisti, tra cui uno molto grosso che vedremo più avanti. Quindi le tematiche occultistiche, occultiste forse sarebbe più corretto dire, sono sempre presenti quindi nei film di Kenneth Anger. In particolare lui si era fatto notare ancora prima che come regista, come scrittore di un libro che si chiamava Hollywood Babylonia, scritto nel 1959, poi pubblicato nel 65, in cui lui praticamente raccontava aneddoti, anche qui non sempre storicamente verificati, circa la corruzione e la perdizione che regnava nel mondo di Hollywood, insomma che nessuno naturalmente pensava allora, né tantomeno può pensare oggi, che si sia in un ambiente per collegiali, per educande, però insomma ecco come diciamo che lui dipinge tutte le persone che fanno parte dello Star System, con nomi e cognomi ecco, insomma in maniera non particolarmente lusinghiera. Però non dovete pensare a Kenneth Anger come semplicemente un regista un po' sballato, magari strafatto da tutte le droghe che circolavano negli anni 60 e 70, fondamentalmente o mezzo matto di cui non avere alcuna considerazione artistica, perché comunque è stato un regista che ha avuto grosse influenza per loro stessa missione su due grossissimi registi come Martin Scorsese e David Lynch, quindi vuol dire insomma che qualcosa di interessante l'avrà pur fatto. Allora questo film, Lucifer's Rising, è un film strano come tutti i suoi film sono strani, intenzialmente è un film che dura solo 29 minuti, non ha dialoghi, ha semplicemente una serie di immagini, di scene, di riprese, di tema vagamente egizio, di antico egizio, con delle immagini anche insomma strane, come dire, molte volte alterna magari appunto l'immagine di una sacerdotessa egizia con un coccodrillo che sta nascendo dall'uovo, insomma cose un po' strane. Andatevelo a vedere, tra l'altro su YouTube lo trovate. Lo trovate con una sonora che non è la sua, però il film lo trovate. Se avete la curiosità di vedere di che cosa stiamo parlando, su YouTube trovate il video. Il film è una genesi lunghissima, quasi ventennale. Anger comincia a lavorarci all'inizio degli anni Sessanta, il film verrà distribuito solo nel 1980. Chi sono gli attori che prendono parte a questo film? Anger stesso, Chris Jagger, fratello del più famoso Mick Jagger, Marianne Faithful che poi avrà una grande carriera come cantante fino ai giorni nostri, Jimmy Page, proprio quel Jimmy Page, cioè il chitarrista delle Zeppelin, e tale Bobby Bosolei, che insomma, come dire, che è la figura, se vogliamo, più interessante, per certi furti di vista anche più esecrabile, di questa storia. Allora, Anger comincia a lavorare il film all'inizio degli anni Sessanta. Nel 1966 incontra Bobby Bosolei, che è un ragazzo di 19 anni, che ha un gruppo che fa musica psichedelica, gli propone di partecipare al film come attore, e lui accetta di fare questo ruolo d'attore, anche, ribadisco, poi in un film senza dialoghi, quindi un film, la recitazione, se vogliamo, non è esattamente la cosa più importante, quindi accetta di fare il d'attore, purché il suo gruppo, che è un gruppo appunto psichedelico, possa scrivere la colonna sonora del film, e Anger dice, va bene, ok, si può fare, venite a bordo. Tenete presente che tutte queste produzioni di Bosolei, erano, perdono, di Anger, erano tutte produzioni a budget sotto zero, insomma, ecco, quindi era un po' aiutiamoci l'un l'altro, insomma. Quindi il film è girato nel 1967, quindi l'anno dopo, Anger accusa Bosolei di avergli rubato buona parte del montato del film. In realtà, Bosolei non avrebbe avuto una ragione specifica per farlo, questo potrebbe essere l'ennesimo racconto campato in aria che Anger ha fatto nel corso della sua vita, insomma. Bosolei semplicemente dirà, no, che il film che era stato girato era quello, perché quei pochi finanziamenti che c'erano erano stati esauriti e quindi semplicemente non era mai stato girato nient'altro che quello che c'era, insomma. Nel 1968 Bosolei entra a far parte della scelerata Family di Charles Manson di cui abbiamo parlato anche solo incidentalmente riguardo il film di Chinatown. Vi lascio comunque il link in descrizione, qui sotto siete su YouTube e qui su se siete su Facebook. Nel 68 quindi entra appunto a far parte del gruppo. Nel 1969, ai lui, commette il primo e anche l'ultimo omicidio per contro di Charles Manson, uccidere tale Gary Hinman, viene arrestato praticamente subito ai tempi a poco più di 21 anni, viene condannato a morte in California, ma per sua forza e fortuna, poco dopo la condanna a morte, viene eliminato in California, quindi la sua esecuzione capitale viene tramutata in una pena all'ergastolo. Bosolei quindi finisce in prigione ed è in prigione ancora oggi, dopo quasi 60 anni dall'omicidio. E allora Anger si avvicina a Jimmy Page, che appunto ha partecipato anche lui, condividendo anche lui molte tematiche occultistiche, l'interesse per Lester Crowley e così via. Jimmy Page decide, insomma, accetta di comporre la colonna sonora e per qualche tempo, in realtà per qualche anno, i due non solo si frequentano, ma Anger vive a casa di Jimmy Page, usa anche i suoi macchinari per montare il film, insomma, come dire, in qualche maniera Jimmy Page gli dà una grossa mano, dopodiché i rapporti si interrompono, ostante il fatto, insomma, che dei due nessuno era particolarmente stabile. Jimmy Page in quel periodo faceva un uso smodato di droghe, che secondo Anger gli ottundevano la mente, non gli dà una lucidità necessaria a scrivere la colonna sonora, anche perché poi lui scriverà la colonna sonora, ma sarà fondamentalmente una cosa senza né capo né coda, di 25 minuti, in cui lui, insomma, suona la notte un po' a caso, quindi non improvvisando, proprio a caso, e praticamente Anger riterrà questa colonna sonora assolutamente inutilizzabile e quindi appunto non la utilizzerà, insomma, ostante anche appunto il rapporto che si è interrotto con Jimmy Page. E qui arriviamo alla parte più insolita del nostro racconto, perché a questo punto, noi nella serie delle colonne d'erco abbiamo visto tante volte che i compositori sono stati sostituiti e da un compositore A si è andati a un compositore B. Non ricordo probabilmente, poi sarà successo nella storia del cinema, tutto può succedere, che da un compositore A si sia passato a un compositore B per poi tornare al compositore A. Ecco, questo diciamo come dinamica è più insolita. E quindi cosa succede? Succede che Bossolai dal carcere offre a Anger di scrivere lui la colonna sonora, dal carcere naturalmente, per cui mette su un gruppo che chiama The Freedom Orchestra, ovviamente un nome un po' in maniera un po' ironica, l'Orchestra della Libertà, tutta fatta da detenuti e con questa Freedom Orchestra e con il supporto ovviamente insomma delle autorità carcerarie, riesce nell'arco non brevissimo di qualche tempo, insomma parliamo comunque di un paio d'anni, a scrivere questa colonna sonora, che poi entra anche un album che verrà pubblicato, un album di 45 minuti, da questi 45 minuti Anger trarrà i 29 minuti che servono per il film, anche perché ribadisco, essendo il film senza dialoghi e senza una vera e propria drammaturgia, senza una vera, quantomeno una storia, ecco se non una drammaturgia non c'è una storia a seguire, è chiaro che c'è musica dall'inizio alla fine. Tra l'altro, ripeto, questo film lo trovate anche su YouTube, ma lo troverete con un'altra colonna sonora, perché qualcuno ha deciso di aggiungere la propria musica, insomma, esperimenti strani che si trovano in rete. Detto questo, su YouTube trovate anche il disco di Bossolai, se volete ascoltarlo, che è un disco di rock psichedelico, neanche male, neanche male alla fin fine, insomma, ecco. Diciamo che la particolarità, che credo sia stato l'unico caso, nella storia della musica, di una colonna sonora scritta da un ergasturano e registrata in carcere. Finisce quindi qui la storia di Lucifer Rising e della sua travagliata storia, del suo regista, che definire centrico è decisamente un eufemismo, che comunque è un di quelle figure, che come detto, ha avuto una sua influenza all'interno di quel mondo, anche comunque molto vivo, che era sicuramente il mondo sperimentale agli anni 60 e 70. Bene, naviganti, spero che la puntata vi sia piaciuta, se è stato così lasciate un like o iscrivetevi al mio canale YouTube e ci vediamo alla prossima puntata. Non mancate!